Sarà un marzo in rosa dedicato alle donne con tante iniziative in un cartellone di appuntamenti messo in campo dal comune per celebrare la donna in occasione della giornata internazionale a lei dedicata. Convegni, iniziative, dibattite e incontri che inizieranno già il 2 marzo con la presenza del ministro Eugenio Arrocella, a presentarli l'assessore alle politiche sociali Arsilia Lancia e il sindaco Pierluigi Biondi. Nei giorni 7 e 8 marzo la fontana luminosa si colorerà di giallo in segno di solidarietà alle cittadini e cittadini afghani e iraniani. Sarà presente Shahed Soleil 8 marzo che è la responsabile delle donne democratiche iraniane e poi ancora spettacoli teatrali come gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere il 9 marzo e incontri più impegnati. Questo è il primo cartellone di Marzo e Rosa, è la prima volta che il comune si cimenta in un appuntamento in un mese che è tradizionalmente ormai per fortuna dedicato alla riflessione al femminile sulla donna. Iniziamo il 2 marzo, ci sarà anche la presenza della ministra alle pari opportunità Eugenio Arrocella e dialoghiamo su un tema importante, sfidante, che interroga ormai tutti, non soltanto gli amministratori politici ma anche gli uomini del nostro tempo e cioè l'inverno demografico. Ma quello che mi piace sottolineare è che molti di questi appuntamenti sono il frutto che questo assessorato riceve dal Consiglio Comunale nel senso che noi abbiamo un Consiglio Comunale per la prima volta eletto per la straordinaria maggioranza al femminile e c'è un po' questo cambio di rotta. Significa quindi appuntamenti trasversali che hanno così l'ambizione e anche la speranza di toccare vari argomenti e così faremo una riflessione importante l'8 marzo, aderendo anche alla giornata ANCI. Il 10 marzo spazio ad un convegno con il prefetto Cinzia Torraco dal titolo 365 giorni donne, un appuntamento con l'università sulle discriminazioni di genere che sarà seguito da un dibattito sul codice rosa e sulle donne offese dai reati di violenza di genere, dialogando con l'avvocato Simona Giannangeli e con l'APM Roberta Davoglio. Infine il 18 marzo ci sarà un momento di dibattiti, incontri a flystyle alla femminile, insomma una serie di appuntamenti che non si riducono a una sola giornata ma che inviteranno ad una riflessione più ampia e a tante tematiche importanti e di attualità. Grazie a tutti.